Il Pescara è vivo, in crescita, 4 punti in due partite, insperati solo sulla carta per il valore delle squadre affrontate Pisa e Monza. La realtà ha detto ben altro, la classifica però resta complicata e il tempo non gioca a favore. 6 giornate all'epilogo, 4 lunghezze da recuperare sulla coppia. Ascoli-Reggiana, più ragionevole evitare tabelle, ogni partita ha una sua storia e non si potrà sbagliare. Sarà un finale di stagione senza Balzano e Memusciai, entrambi sotto i ferri. Il primo per una lesione al menisco, il centrocampista albanese per un intervento di pulizia al ginocchio, già operato lo scorso agosto, programmato nella giornata di venerdì. Galano è alle prese e con una distorsione alla caviglia. Sarà valutato, ma rimane in dubbio per la trasferta di sabato a Brescia, dove il Pescara è già in ritiro dall'immediato post-gara di Monza. Sulla via del recupero, Tabanelli e Rigoni, ancora out, Sasà Bocchetti. Aggregati, primavera, Cagliò e Longobardi, rispettivamente centrocampista e difensore. Dopo la sfida del Rigamonti, tre incroci in sette giorni da dentro fuori. Lentella all'Adriatico, sabato 17 aprile. Martedì 20, il Cosenza al San Vito Marulla. Sabato 24 aprile, la Reggiana in casa. Quindi la trasferta di Cremona e l'impegno interno con la Salernitana, sabato 7 maggio, a chiudere la stagione regolare, nella speranza, naturalmente, di allungarla. Di fatto, sarebbe un miracolo.